ecco qui ricominciamo da dove abbiamo lasciato eccolo qui ora zettino che sta piuttosto bene guardalo che carino ciao ben trovati come state allora ora zettino sta benissimo quindi grazie a tutte le persone che ci sono informate molti mi hanno chiesto e devo dire sono molto contenta sta andando benissimo ok allora e poi farò vedere adesso non so se riesco ad acciuffarlo e a capire qualche immagine da mettere nel video non lo so non lo so vedremo in fase di montaggio allora oggi vi mostro una cosa un po particolare un segnalibro fatto con perline e anche qualche componente diciamo così di recupero nel senso che ho nel cassetto ho comprato sono cose nuove di pacca ma che praticamente non uso mai volevo trovare un utilizzo possibile e ho creato un segnalibro allora non ve lo mostro vi faccio vedere le fotografie e ditemi se vi piace e vi mando un bacio anche due ciao ecco l'occorrente allora del cavetto di nylon come questo io l'ho preso abbastanza spesso non spessissimo ma abbastanza spesso ok poi le solite pinze non le elenco quasi più neanche perché insomma diciamo quelle essenziali per tagliare stringere e avvolgere ok dopodiché io ho trovato delle perle ora non so ancora quale userò però ho trovato delle perle di metallo che mi sono rimaste lì e non so già come utilizzare quindi perle di metallo delle grosse perle in questo caso sono di plastica di di regina direi vedete poi delle calotte a stringere come queste per coprire i nodini poi dei chiodi che poi sono argentati i miei come vedete quindi mischerò un po' di cose chiodi o pezzettine di filo del tipo che volete voi e infine delle dei tubetti degli schiacci non mi viene il termine degli schiacci a tubo argentati oppure dorati non importa allora per la lunghezza per la lunghezza tenete presente che dipende un po' da quello che volete fare perché potete prendere un libro per esempio e valutare in base al libro quindi voi prendete un libro qualsiasi e fate una prova di lunghezza ah dimenticavo una cosa molto importante che non vi ho detto che ci vorranno anche delle perline piccole scusate l'unica cosa che ho scordato allora perline di questo tipo è molto piccole perché poi una volta prese con il filo con il cavetto devono poter stare nella piega del libro quindi devono stare all'interno quindi non si possono mettere perline troppo grandi se no poi vi trovate male a chiudere il libro quindi io suggerisco perline molto piccole non so bene che dimensione sia no? perché normalmente le uso senza esattamente sapere la misura comunque io penso che il vostro occhio alleato abbia già capito oppure diavolo va bene sono sempre uguali il colore che preferite naturalmente allora partiamo dal pendaglio o dal pendente parto costruendo il pendaglio uno dei due pendagli in questo caso saranno identici li farò tutti gli uguali però se volete se preferite potete crearne uno diverso dall'altro insomma non è così importante allora dovete usare un chiodo io avevo questi e voglio usare questi sono tutte cose un po' di recupero se usate un pezzo di filo normale ovviamente dovete fermare la corsa della pietra e quindi fate un'asoletta qualcosa che blocchi la pietra poi infilo le perle io ho scelto questa sequenza allora così vedete? allora solo che qui ho poco spazio e siccome però mi piacciono le sfide proverò lo stesso a fare una asoletta e verrà piccolina abbastanza piccola allora arrivo fino in fondo ok dopodiché però devo portarla indietro un po' perché se no ecco la porto indietro per centrarla spero si veda ok direi che potrei anche accontentarmi così allora abbiamo fatto questo pendaglio adesso prendete questa calotta questa chiusura con la calotta ed il gancino che precisamente no vi devo dire il nome di questo perché altrimenti è troppo generico allora si chiama calotta a pressione vedete com'è fatta ha un gancio ok allora praticamente un gancio lo metteremo qui nell'asola e l'altro ci servirà in questo modo che ora vi mostro prendiamo il filo avrete già misurato il filo probabilmente allora con uno schiaccino qualsiasi dovete bloccare un'estremità allora infilate lo schiaccino solo in un filo cioè veramente soltanto questo non dovete fare altro e non cerchiamo la bellezza estetica ma nemmeno tanto la funzionalità perché ora vi mostro bloccate l'estremità più forte che potete ok se avete dei dubbi sulla tenuta di questo schiaccino mettete un pochino di colla per bigiotteria che può andare molto bene ok adesso infiliamo la calottina questa con il gancio la infilo a un foro vedete la calottina ha un foro passante diciamo così tiro 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 ok fino a a guantare questo termine proprio guardate è terribile però credo di essere spiegata fino a prendere il nodino che si è formato e dobbiamo stringere allora stringiamo chiudiamo la calotta chiudiamo 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 ok vedete avanzato un pezzetto di filo che possiamo tagliare e volare allora ok scusate allora avete visto quindi ripeto se avete dubbi sulla tenuta mettete anche un goccino di colla nella parte interna possiamo afferrare il nostro pendaglio e chiudere e chiudere a pressione sempre allora adesso dobbiamo cominciare ad infilare le perline che abbiamo scelto io metterò queste che mi piacciono molto hanno un color bronzo allora e bisogna avere un po' di pazienza perché bisogna infilarle tutte se avete un panno di quelli che non fanno scivolare via le perline usate un panno e se no fate come me che il panno ce l'ho riposto da qualche parte e infilate una ad una le perline allora quando siete arrivati alla lunghezza desiderata ok quindi avete misurato sul libro magari avete fatto così per rendervi conto della lunghezza spero si possa vedere allora vi fermate fate in questo modo prendete la calotta a pressione e la infilate per prima la infilate con la schiena rivolta la schiena insomma la parte posteriore rivolta verso le perline vedete poi dopo aver infilato questa infilate lo schiacci eccolo qua lo portate giù 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 e lo schiacciate lo spremete letteralmente sul filo facendo attenzione a non rovinare del tutto il filo allora lo schiacciate all'interno ok vedete della calotta che poi dovrete stringere naturalmente verificate che tenga che la calotta non esca e possibilmente mettete una punta di colla in questo caso direi che possiamo farlo poi che stringiamo chiudiamo bene la calottina ok dunque possiamo tagliare il filo che non ci serve più va bene e poi chiudere allora questa dimenticavo di dirvi che questo gancio si può benissimo e fatto apposta come vedete può essere arrotolato su se stesso praticamente si fa un'asola da qui oppure no ecco io l'ho schiacciato va bene l'ho schiacciato prima vedete come vi trovate meglio aspettate un attimo a chiuderlo e facciamo il secondo pendente eccoci al secondo pendente allora altro chiudino infiliamo come abbiamo fatto prima in questo caso io farò la stessa cosa se voi volete apportare qualche variazione potete farlo infilo le tre perle come ho fatto prima ok poi faccio una piccola asola ok in questo modo che chiudo su se stessa poi devo portare indietro per trovare il centro della soletta ok e aggiusto finché non riesco va bene adesso la raddrizzo un po' la rimetto un po' in asse ok va bene a questo punto aggancio la soletta e chiudo chiudo senza schiacciare completamente tenendo naturalmente facendo in modo che non esca il pendaglio però senza spremere del tutto perché questo significherebbe bloccare il pendaglio nella posizione non andrebbe bene invece deve essere proprio qualcosa che dondola appunto ecco qui abbiamo finito ciao 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 Grazie a tutti.